Musica Ue ragazzi come va? Spero tutto bene Io sono Kino e l'altra volta avevamo visto un piccolo trucco per attraversare tutta la mappa in volo con la spada Ora invece raga proveremo direttamente a volare Ebbene si vi voglio svelare un altro trucchetto io lo sto usando già da un paio di giorni ragazzi E vi devo dire che mi sto trovando veramente bene ho fatto un po' di battaglie aeree con i taker Vi spiego già che probabilmente non avrete bisogno di tutti gli eroi che ho messo io Io mi sono fatto un setup un po' così non l'ho fatto per il fumogeno vedremo il fumogeno in un altro video In questo video mi voglio concentrare sui salti e volare Perché? Perché con questo eroe possiamo volare Voi vi starete dicendo si Kino voli come in quel video che hai fatto che fai la scala e vai in alto E poi ti lanci giù e continui a usare gli attacchi finché non finisce la stamina No raga io vi dico che se fate una missione da 10 minuti entrate dalla prima volta in cui fate il primo salto Potete stare tutti i 10 minuti in aria Dovete solo avere pazienza a premere tutti i tasti e essere svelti e tutto qua Vi faccio subito vedere in game Dunque raga come vedete qua abbiamo la spada che ci servirà per volare Vedete l'energia questa volta la tengo a 100 così in modo che potrete anche voi capire veramente la sua effettività E l'unica cosa che vi dico è la spada perché la spada va percata così Efficienza energetica attacco pesante efficienza energetica attacco pesante Le altre perk per il momento me le sto risparmiando perché non è una spada che per ora ho sempre utilizzato Ma dopo questo aggiornamento penso di averla sempre in mano Col ninja sarà la mia spada primaria Comunque io sono pronto per saltare lo so che state aspettando che io salto Ma io vi faccio aspettare Dai Si vola? Cento tretta Particari Xenimals Si vola Let's go Attacco alternativo E se continua a saltare Guardate l'energia Nel frattempo che io uso L'attacco alternativo fa in tempo a ricaricarsi un po' di energia Perché diciamoci la verità l'importante è che l'energia si recuperi allo stesso tempo del salto In modo che io possa andare avanti tutta la partita no? Vedete sono ancora a 93 100 energia Basta fare i salti un po' più con calma che l'energia si ricarica tranquillamente Avete visto che bello raga? Possiamo attraversare completamente tutta la mappa Senza che ci siano zombie che ci scassano Oppure senza tutti quegli alberi, montagnette, montagnole, casette che ci danno fastidio per tutta la mappa Adesso qua non andrebbe cercato un obiettivo Però Ci sono molte missioni dove dall'alto puoi cercare il furgone di Lars Puoi cercare Insomma tante cose Lo sapete meglio di me raga L'unica cosa che non so Precisamente è che se sulla spada servono effettivamente tutte quelle due perk d'oro Di efficienza energetica attacco pesante Fatemi sapere voi nei commenti raga Se qualcuno di voi l'ha provata con una spada che non è percata così Sono davvero davvero curioso Possiamo anche inventare qualche mini challenge Tipo Deflorislava Andiamo subito a fare Deflorislava raga Ecco il mio scudo antitempesta Montespago Quanto mi manca fare le difese raga Comunque Deflorislava Se cado muoio Aiuto ragazzi Poi vi ricordo che avete anche i kunai eh Vi ricordo che avete i kunai A cosa servono in questo caso Servono per Respirare un attimo Senza dover premere tutti quei tasti Continuo a fluttuare appena cado E riutilizzo gli attacchi State molto attenti all'energia raga Perché se vi finisce l'energia Deflorislava Mi dispiace ma l'avete persa Poi soprattutto Finalmente possiamo raggiungere Punti Particolari Senza costruire No? Non siete d'accordo anche voi? Per esempio ora Sono stanco di continuare a premere tutti questi tasti Ah Tempesta di kunai E nel frattempo voi potete anche usare il salto per salire No? Ok L'amplificatore A è scoperto Non ha problemi Proviamo a cambiare lava E dovete provarlo in pubblica raga In pubblica è una figata con la gente che vi guarda E tenta di saltare perché non capisce come avete fatto Comunque raga la lava quadrata è il top eh Cioè in battaglia reale Hanno aggiunto una lava che è bellissima Nuova Fresca Rossa Incandescente Venga qua abbiamo la lava di Minecraft Guardate quadrata Vabbè Vi faccio vedere un attimo in pubblica Anche Però non voglio morire così nella lava L'ho superata la The Floor is the Lava Vero raga? Dunque raga Lobby pubblica Missione 4 atlanti E andiamo a cercare listi benedetti 4 atlanti Andiamo belli in alto Con il nostro ninja Tempesta di kunai Do un'occhiata in giro Ok qua in Eccoli là Eccoli lì ragazzi Come avrete notato Molto molto più semplice Così localizzare l'obiettivo Adoro questa combinazione Raga Fatemi sapere voi nei commenti Cosa ne pensate Se utilizzerete la stessa combinazione che sto usando io per fare ciò Io Sono sicuro che se trovate un ninja che consuma poca energia Va bene anche quel ninja Soprattutto preferirei uno con anche lo squarcio del drago Al posto degli shuriken Quindi valuterò bene gli altri ninja Vi farò sapere nei prossimi giorni ovviamente Voi non dovete fare altro che scrivere nei commenti cosa ne pensate di questo video Così io so se continuare queste piccole serie Questi piccoli episodi in cui vi mostro questi piccoli trucchetti O semplicemente fare tutorial su Su gente OP Per il momento mi piacciono le cose particolari Lo sapete voi che io Sono uno che ama le cose particolari Le cose che la Epic non crea volontariamente Ma che crea involontariamente E che a noi piacciono Possiamo dire così Detto questo Io non posso fare altro che salutarvi Che ringraziarvi di aver guardato il video fino a qui Fatemi sapere se siete arrivati fino a qui Nei commenti in questo video Ci vediamo domani con un nuovissimo video Bella bella Ciao Ciao Grazie a tutti.